Da una multinazionale dell'intrattenimento a questo punto, dall'intrattenimento a una multinazionale, da poco diventata multinazionale, Moneygram International, che ha dovuto riorientare tutta la propria cultura e struttura organizzativa. Dottor Bagioni, ci dica un po' che cosa è successo e come voi altri avete colto questa occasione di riorganizzazione? Buongiorno a tutti, innanzitutto Moneygram inizia a diventare multinazionale nel 2007, quando l'agente esclusivo per l'Italia viene acquisito da Moneygram International, ma proprio quest'anno, nel 2012, inizia la vera e propria ristrutturazione aziendale, che molto sinteticamente, non abbiamo il tempo di spiegare tutto, vuole replicare modelli organizzativi della casa madre localmente in Italia e l'Italia diventa focal point per le strategie in Europa. Che cosa accade? Accade che, ahimè, nel passaggio da azienda locale, italiana, padronale, all'azienda multinazionale viene trascurato tutto l'aspetto legato alla cultura organizzativa, quindi ci si affida più a ruoli e competenze, ma si cura poco la base, la variabile umana e quindi ci ritroviamo in una condizione nella quale le persone non sono state abituate alla responsabilizzazione rispetto ai processi e alle attività aziendali e al decision making, cioè alla presa di decisioni. Quindi questa è la criticità forte che abbiamo rispetto a una casa madre che oggi ci chiede un accountability molto diffusa all'interno della popolazione aziendale. Quanti dipendenti hai in Italia? In Italia 130 persone, io poi gestisco altri paesi dove chiaramente ci sono altri dipendenti. Ecco, quindi il problema prioritario su cui mi sono concentrato, la questione prioritaria è stata quella proprio di lavorare sulla cultura organizzativa. Credo che abbiamo vissuto tutti i processi di cambiamento in questo pubblico, ci saranno tanti colleghi che hanno vissuto questo aspetto. Parliamo molto di cambiamento, purtroppo siamo in un paese che questo cambiamento non riesce ad esprimerlo un po' a tutti i livelli. Credo però che prima di arrivare a delle conclusioni, a dei giudizi, a delle valutazioni finali forse ci dobbiamo porre qualche domanda in termini di che cosa stiamo facendo per generare cambiamento e allora la prima cosa che mi viene in mente è che probabilmente il cambiamento non parte, non decolla perché non lo abbiamo spiegato, cioè non abbiamo fatto in modo di far passare le persone dalla domanda perché stanno cambiando il mio lavoro, perché devo cambiare invece al come devo cambiare, quindi a un fare più proattivo di accompagnamento verso il cambiamento. Spesso ho sentito i vertici aziendali che non mi seguono, questa gente non cambia, non vuole cambiare. Ecco la risposta potrebbe essere che spesso abbiamo pubblicizzato all'interno dell'azienda la necessità di cambiare ma non l'abbiamo spiegato e allora la cosa che stiamo facendo sempre di più è proprio quella di andare area per area sia con momenti di incontro in cui diversi team, cross functional team si incontrano e si raccontano rispetto alla nuova struttura organizzativa come sono riorganizzati i processi all'interno dell'azienda per fare in modo che sia il più chiaro possibile a tutti il modo di lavorare all'interno e questa è la prima cosa che stiamo facendo, la seconda cosa che stiamo facendo è l'assunzione di responsabilità del vertice aziendale nell'incontrare sistematicamente le persone almeno una volta al mese e seguire, accompagnare le fasi di cambiamento cercando di capire quali sono le difficoltà che stiamo incontrando e abbiamo anche deciso di evitare di vivere la resistenza al cambiamento come un fattore negativo, cioè abbiamo iniziato a considerarla un vero e proprio feedback sul cambiamento che ci consente di cambiare il cambiamento, se mi passate al gioco di parole, nel senso di partendo da un'idea di base di evolvere nel progetto che stiamo realizzando facendo in modo che sempre di più le persone siano coinvolte e quindi creando all'interno dell'azienda delle coalizioni, soprattutto nella prima linea, che ci aiutino a spingere in avanti l'organizzazione. Quindi non darlo per scontato e per definito a priori? Sì, evitare di proclamare, di vivere il cambiamento dall'alto quasi come una forma di snobbismo rispetto a quelli che non teoricamente sarebbero contro, poi la domanda è perché riteniamo che queste persone stiamo mettendo in atto dei comportamenti che a noi sembrano essere contro e cercare di andare un po' più sulla ciccia e capire come le persone stanno vivendo il cambiamento perché credo che qui dentro, lo sappiamo tutti, il cambiamento genera paura rispetto a ciò che non si conosce e molto spesso anche il timore di non farcela e quindi è importante capire in che cosa le persone si sentono inadeguate rispetto al cambiamento che ha atteso in azienda. Grazie.